Il Governo ha chiesto la fiducia alla Camera sul decreto legge Omnibus. Il voto di fiducia si terrà domani pomeriggio. L'Omnibus contiene diverse norme, tra cui il rifinanziamento del FUS, l'aumento delle accise sui carburanti, la proroga del divieto per gli incroci tra TV e giornali, ma soprattutto la moratoria sulle centrali nucleari. E questo ha scatenato le reazioni dei promotori del referendum contro il nucleare. Se il Governo si limitasse ad abbrucare le norme che il referendum chiede di abbrucare andrebbe benissimo, però purtroppo dalle dichiarazioni degli stessi esponenti del Governo mi sembra che siamo di fronte a una furbizia, cioè al tentativo di aspettare lo stesso test europeo, che per atto è molto contestato a livello europeo, per poi riproporre pari pari il nucleare. Questo annullerebbe il diritto dei cittadini ad esprimersi e soprattutto annullerebbe anche una richiesta democratica fatta con mezzi democratici dagli stessi cittadini. Ma al presidio di Piazza Montecitorio ci sono anche i promotori dei referendum contro la privatizzazione dell'acqua e contro il legittimo impedimento. Vi sentite forti e pensate che il Governo ha paura di questo referendum? Il Governo evidentemente ha visto i sondaggi, ha visto che questa volta la gente non andrà al mare, allora cerca di depotenziare. E ricordiamo che oltre al referendum dell'acqua c'è quello per il nucleare e quello per il legittimo impedimento. Sì, noi pensiamo che quattro sì diano il segnale che una stagione è finita e ne comincia una nuova, per la democrazia, per i beni comuni e noi crediamo anche per il diritto al futuro.